A partire da questi giorni l'istituto comprensivo che racchiude sia Valperga che Pertuso che Prascorsano è sempre più innovativo e sempre più sicuro grazie a tutta una serie di iniziative e di lavori che sono stati posti in essere nell'ultimo periodo. Con Walter Sandretto, sindaco di Valperga parliamo di queste grandi novità che permettono alle scuole del territorio di permettere ai ragazzi di essere al passo con i tempi. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Devo dire che comunque tra la sinergia dei sindaci e dell'istituto comprensivo tra Pertuso, Valperga e Prascorsano e San Colombano comprendendo la parte dell'Unione Montana in sinergia cercano sempre di mettere comunque sicurezza quello che possono essere il discorso scolastico e tutto le scuole, gli istituti. Abbiamo la fortuna comunque di far parte di questo istituto comprensivo di Valperga in cui racchiude queste tre realtà e grazie comunque all'impegno della dirigente, dottoressa Miotti e di tutti i docenti, hanno ottenuto un finanziamento da parte dei PNRR per queste lavagne interattive che sono touchscreen, quindi di conseguenza sono all'avanguardia e ovviamente mettendo questo noi come comune abbiamo dovuto comunque implementare la rete, implementare comunque i discorsi di elettrici e tutto quanto, però siamo veramente orgogliosi perché finalmente a Valperga, diciamo, già prima era, diciamo avanti, con questo veramente, diciamo, coi tempi attuali, quindi di conseguenza siamo digitalizzati nel modo corretto in modo che tutti i ragazzi possano avvicinarsi sempre di più a questa realtà. Quindi non posso che ringraziare veramente tutto l'operato dei nostri docenti e diciamo che può essere un buon auspicio perché adesso siamo all'interno della scuola secondaria, della media, in cui non abbiamo questo progetto esecutivo praticamente pronto per essere finanziato, eravamo, diciamo, purtroppo il comune, l'ultimo comune, diciamo, di questo elenco che era stato finanziato, non è stato finanziato e attendiamo veramente con piacere che, diciamo, con, come posso dire, con ansa, con tutto quello che c'è veramente col cuore che è veramente la regione, lo Stato, riesca a finanziarci questo progetto esecutivo che non venga poi lasciato in un cassetto buttato via, ma che diventa una realtà che tutto quello che noi abbiamo all'interno di buono come docenza, come dirigenza, come cose interattive e tutto, però diventa anche praticamente una scuola all'avanguardia che possa dare una struttura, diciamo, decente per quello che possa essere l'istruzione perché Valperga lo merita, perché tra i dieci, mi pare che sono tra i dieci comuni che hanno ottenuto questo finanziamento, comuni istituti complessivi che hanno ottenuto questo finanziamento, quindi è una cosa importante, diamo anche una dignità a questa scuola. Noi stiamo spingendo fortemente su questo, difatti oggi avremo qua la presenza della Elena Chiorino che è l'assessore all'istituzione della regione Piemonte, speriamo che veramente inaugurando queste lavagne interattive possa portare poi un conseguimento di tutto il resto che per noi è molto importante. Stiamo con Valerio Imiotti, sicuramente il finanziamento che l'istituto ha ottenuto permette alle scuole del territorio canamesano di fare un passo avanti importantissimo, significa che anche si può dare agli studenti del territorio, in questo caso di Valperga, di Pertusio e di Prescossano, un modo sempre più attuale e diciamo così sempre più moderno, perché è vero che ormai il modo di istruire anche i ragazzi è cambiato e è diventato al passo coi tempi. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie di questa intervista, così ho modo di spiegare anche a chi non è, diciamo così, dentro la scuola, quali sono le novità. Grazie ai fondi del PNRR, in particolare questo si chiama Next Generation Classroom, abbiamo potuto dotare le scuole di Valperga, Pertusio e Prescossano di tutte le scuole, quindi primaria e secondaria, di materiale interattivo. Dico anche che anche nella scuola dell'infanzia abbiamo potuto attuare delle innovazioni, sia nell'ambiente soprattutto, grazie in questo caso però a un fondi europeo, i PON, che sono già degli anni precedenti ma stanno arrivando adesso tutti i materiali. Quindi abbiamo cercato di favorire un ambiente migliore, un ambiente più accogliente e soprattutto appunto di dotare di nuove tecnologie tutte le aule. questo ci permette di attuare una didattica, come giustamente ha detto lei, una didattica più innovativa perché ovviamente non basta avere la strumentazione se poi non si ha un'attività di formazione sui docenti che possano utilizzarle nel modo migliore. Non si tratta di uno strumento a sé ma si tratta di uno strumento assolutamente mirato a una migliore interazione con i ragazzi di oggi e per favorire una didattica di tipo meno trasmissivo e più interattivo con i ragazzi, i bambini e le bambine. Queste touchscreen sono state installate grazie anche alla collaborazione di tutti i tre i comuni perché ci sono stati anche ovviamente dei lavori di adattamento soprattutto della linea elettrica ma anche della linea di wifi che altrimenti non si potevano utilizzare. E devo dire che durante il periodo estivo tutti e tre i comuni hanno molto collaborato finché questo venisse realizzato ed è un bel esempio di collaborazione fra enti del territorio e ente scolastico che deve essere sempre mirata a questo, cioè al miglioramento dell'ambiente e delle condizioni favorevoli affinché si possa dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze l'offerta formativa migliore che noi appunto possiamo offrire. Nel frattempo i docenti proprio in questo momento e poi continueranno stanno facendo della formazione per l'utilizzo migliore di questi strumenti e resta ancora da realizzare ma arriverà a breve anche tutta una strumentazione e un'ambientazione per un'aula di biblioteca multimediale che sarà aperta a tutte le scuole anche di Prescorsano e di Pertusio realizzata qui nella scuola secondaria Arnulfi per motivi di spazio insomma però che sarà aperta a tutti e questo per esempio favorirà ovviamente l'approccio alla lettura e anche la condivisione con altri paesi perché si potrà diciamo così avere contatti con tutto il mondo volendo quindi questo è quello che noi ci proponiamo e speriamo che appunto sia favorevole per accrescere sempre di più l'intervento della scuola in campo culturale. Oltre alle opere appunto che servono per avere una scuola sempre più moderna sono state anche realizzate una serie di interventi che garantiscono la sicurezza sia all'interno della scuola per i docenti ma anche per gli studenti quindi una serie di lavori importanti anche sotto questo punto di vista. Sì in questi anni abbiamo stanziato diversi soldi comunque giustamente indirizzati alla sicurezza per la scuola difatti la primaria abbiamo rifatto tutto il contosofitto, tutti i solai nuovi quindi per mettere sicurezza e tutto quello che poteva essere più tutto effettivamente energetico quindi la primaria avrà praticamente tutte le luci a led sarà tutto praticamente effettivamente energetico come previsto e in più per quanto riguarda, tornando al discorso della secondaria cioè della media per essere ancora più tranquilli nel senso che se non ci arrivano i finanziamenti per fare la scuola nuova, per abbattere la nuova noi ci siamo prodigati con un progetto con dei professionisti hanno fatto già dei saggi, dei sopralluoghi, dei saggi sulla struttura portante adesso hanno portato praticamente tutto in laboratorio proveranno tutto e da lì avremo una certificazione che la struttura perlomeno stia in piedi e tutto quanto in più da lì potremo avere un cronoprogramma di interventi manutentivi per far sì che almeno questa scuola per 3-4 anni possa ancora davanti affinché non troveremo le risorse per rifarla completamente perché purtroppo qua è da rifare quindi noi stiamo spiegando questa cosa speriamo veramente che la regione, lo Stato, tutti insieme trovano questi soldi nel progetto che noi abbiamo abbiamo fatto tutto di corsa, ci siamo impegnati per averlo quindi speriamo che prima o poi riusciamo veramente a Valperga avere quello che merita perché come ho già detto precedentemente abbiamo veramente dei docenti all'avanguardia abbiamo tutto all'avanguardia e manca proprio la struttura per essere a posto e quindi di conseguenza attendiamo quello ma sono sicuro che riusciremo nell'intento sicuramente nel più breve tempo possibile questo sicuro però nel frattempo garantiamo la sicurezza a tutti i ragazzi a tutti i docenti che ci sono all'interno a tutti quelli che vengono all'interno in modo che possiamo essere tranquilli che questa scuola almeno non cada e quindi questa è una delle cose che sarebbe già stato tutto fare tempo fa ma la stiamo facendo e un passo alla volta cerchiamo di mettere in sicurezza anche quello quello che c'è di positivo che comunque la primaria è un'eccellenza quindi è a posto, non ha più nessun problema e quindi di conseguenza siamo tranquilli speriamo nella secondaria perché vada bene per quanto riguarda anche l'infanzia abbiamo praticamente avuto la fortuna come ho detto prima di queste lavagne interattive perché è ovviamente una cosa diversa perché l'infanzia è diciamo sono i più piccoli però avremo praticamente dall'infanzia alla secondaria praticamente proprio una cosa digitalizzata in modo che praticamente già possono partire dall'infanzia arrivare alla media e essere poi preparati e questo veramente mi dà veramente un orgoglio è un altro video